Hi guys! Oggi fuori nevica, fa freddo, sono nel nel basement sotto la parte, come la chiamiamo noi in Italia, la taverna diciamo, anzi ve la faccio vedere, ve la faccio vedere col telefono, video, facciamo così, c'è questo mega divano dove sono io, lì c'è la televisione, la telecamera che mi sto riprendendo, lì c'è il cammino a gas e poi continua, ovviamente ve la farò vedere, poi quando farò il tour della casa tutto è meglio, però anche questo angolino della casa è molto bello, vedete, divano nuovo immenso, super televisione, penso sia un 85 pollici, c'è da divertirsi. Allora ne approfitto oggi per rispondere alle domande, visto che lunedì viaggiavo e non ho potuto rispondere, oggi rispondo, ma prima di rispondere premetto, non voglio offendere nessuno, ma devo, ma devo, voglio, non devo, dovere ne no, ma voglio giusto dare una spiegazione, una delucidazione a un commento di qualche giorno fa, devo mettere gli occhiali per leggere, che ovviamente lo vedrete qua da qualche parte, che Tina mi ha scritto, senza conoscermi. Io penso che non hai voglia di lavorare, hai un ottimo posto di lavoro e vedo che lo stai lasciando, poi troverai un altro lavoro e lascerai anche questo, sinceramente faccio fatica a capirti, ma io sostengo e non ho dubbi che voglia di lavorare zero, o forse vuoi lavorare ma non sotto padrone. Sbaglio e qui spero di non offendere nessuno, però questa mentalità da italiano al 100% è quello che sta rovinando il nostro paese, non cresciamo, non c'è sviluppo, siamo fermi agli anni 60-70, quando il lavoro fisso era tutto, una volta che tu raggiungevi il lavoro fisso eri a posto. Se non avessi, Tina, se non avessi avuto voglia di lavorare, ero statale io in Italia, vigile del fuoco, rimanevo dove ero, avevo il mio stipendio, la pensione, come tanta gente pensa, che è così importante, nei prossimi 25 anni avrai la pensione, non avevo voglia di lavorare, mi imboscavo in qualche ufficio, in Italia ci sono circa 30.000 vigili del fuoco e, parlo per esperienza personale, ce ne sono tanti che non hanno voglia di lavorare e si imboscano negli uffici, in certi settori dove si lavora poco, ma il 27 del mese si ha lo stipendio, si hanno tante vacanze, si può fare malattia, quanto si vuole, ci sono tutte le varie leggi che tutelano i dipendenti pubblici, quindi potevo rimanere là. Invece ho deciso di lasciare un lavoro sicuro per l'incerto, ho trovato un altro lavoro qui in America, ho lavorato per circa sette anni e credo che ho fatto bene, sono riuscito ad avere la sponsorizzazione della green card, oggi ve lo posso dire tranquillamente, guadagnavo 70.000 dollari all'anno, un vigile del fuoco guadagna circa 2.700 euro lordi, perché ovviamente io parlo di lordo, 70.000 dollari all'anno, però se facciamo 2.700, lo faccio al volo, 2.700, facciamo 3.000 dollari, prendere e lasciare, per 13, perché ci sono 13 mensalità, sono 39, quindi avevo quasi raddoppiato il mio stipendio, oggi mi si è proposta una nuova opportunità per crescere ancora a livello personale di lavoro, dove crescerò sia nella mia conoscenza, perché dovrò imparare delle cose nuove, dovrò imparare dei macchinari nuovi, il mio bagaglio tecnico ammonterà, ma ovviamente se ho cambiato lavoro andrò a prendere anche più di 70.000 dollari, se ero in Italia, vigile del fuoco, sicuramente non mi stancavo, avevo tante ferie, però lo stipendio era forse 100-200 dollari in più di quando ho lasciato 9 anni fa, quindi Tina mi sembra proprio che hai preso un abbaglio, ma proprio grande, non ho gli occhiali da sole da prestarti per metterli, perché ripeto, se non avessi voglia di lavorare stavo in Italia a fare il vigile del fuoco, lavoro statale, come il lavoro di Checco Zelone, non mi ricordo il titolo dove lui combatte per mantenere il posto fisso. Non mi sono offeso, Tina era giusto per far capire che nel 2022 dovremmo ragionare in modo diverso se vogliamo migliorare, sia a livello personale, ma sia a livello della società, perché se tutti pensassero meglio non migliorare, meglio non provare, soprattutto i giovani, ragazzi provate, 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 perché non sapete mai cosa vi regalerà la prossima esperienza. Se vi sedete sugli allori non crescerete né mentalmente né interiormente. Io parlo per esperienza, ho 46 anni, ho fatto diversi lavori, ogni 7-8 anni cambio lavoro, ma se io parto da quando ho iniziato a lavorare arrivare oggi, ho fatto una crescita esponenziale, cosa probabilmente, Tina, che tu non hai mai fatto, perché probabilmente se tu, io non so che lavoro fai, se lavori ancora, ma se tu hai un lavoro sicuro, non avresti mai mollato quel lavoro sicuro per qualcosa di incerto, che però ti può dare tantissime soddisfazioni, sia personali, ripeto, che a livello economico. Questo è tutto, Tina, comunque ognuno pensa a quello che vuole, adesso sigla! Iniziamo con Salo. Hai Fabrizio, ma l'incrocio con l'aureola è di bellezza, ha uno scopo per il traffico tipo gli specchi agli incroci, è riferito a un video che ho girato a Houston qualche giorno fa, no, credo che sia solo per bellezza, il quartiere che l'ha fatto, giusto per bellezza, non c'è nessun secondo scopo. Poi bellezza è tutto da vedere, non è che è una cosa bellissima. Vaga, bondo. Ma in America si mangia solo panini e roba fritta? Vaga, bondo. No, non si mangia solo panini e roba fritta, io faccio vedere le schifezze che mangio. Esempio, adesso è una settimana da quando sono arrivato qua che mangio solo verdura, minestra e minestrone, non è interessante probabilmente farlo vedere in un video, è interessante far vedere le schifezze che si possono mangiare e trovare in America, ma credimi che in America si può trovare anche tante cose buone e salutari, basta cercarle. The newsroom. Fabri domanda, ma lì, questione covid, mascherina, vaccini obblighi, mazzi e razzi, come siete messi? Allora, siamo messi, sono arrivato da poco in Wisconsin, mi hanno detto che dal primo di marzo, hanno tolto anche qua tutte le regole che c'erano prima di mascherine al chiuso, di stanziamento, limiti. Di conseguenza qui se ne parla pochissimo o quasi niente tra le persone, poi le news non le seguono, guardo qualcosina, ma non molto, ma in generale non se ne parla tantissimo e si è tornati pressoché per il 90% a una vita normale pre-covid. Lorenza. Ciao, hai fatto un corso d'inglese per imparare a parlarlo? Allora, Lorenza, a parte che ancora lo parlo male, lo parlo ancora male. Io ho fatto un corso, il primo mese che ero stato qua, ero andato a un corso che aveva organizzato l'Università St. Thomas di Houston, ma è stato più importante parlare con la gente e guardare la televisione. La televisione, con i sottotitoli all'inizio, proprio per capire, per sentire i suoni, è stato molto, molto, molto importante. Per il parlato, ovviamente, parlare con la gente, cercare ogni giorno di parlare con qualche persona nuova, anche qui, sia per esprimersi, ma anche per capire gli accenti diversi, le pronunce diverse, perché come noi in Italia parliamo da zona a zona in modo diverso, anche qui in America si parla diverso, ed è utile cercare di parlare con più gente possibile per farsi una base. Oggi non ho nessunissimo problema, anche se parlo male alla grammatica, ovviamente non avendo fatto scuole non è perfetta, ma riesco a comunicare anche al telefono, che è forse la cosa più difficile. Mini e Forchetta. Ciao Fabrizio, dove vivi di preciso? Vabbè, ormai nei video li avete visti, mi sono trasferito in Wisconsin, nella cittadina di Monona, che è praticamente un subborgo della capitale Madison. Dario Tronchin. Ma è vero che non esiste l'amicizia tra uomini e donne e se attacchi i bottoni è solo a fini ricreativi? Vai Fabri. Dario, no, non è vero, credo di no, si possano avere delle amicizie, femminili. Non è giusto per avere dei secondi scopi, anche perché non è che tutte le persone, tutte le donne che incontri o tutti gli uomini che incontri ti piacciono per avere un secondo fine. Ovviamente ogni tanto capita, spesso capita, ma non sempre. Io ho amiche femmine, donne, non c'è nessun secondo scopo. The Newsroom. Dopo il Texas dove andrai? L'avete visto, Wisconsin. Mircom 92. Ciao Fabri, ho sentito che vai verso nord, ti sposti per lavoro o per continuare il viaggio con la Nina? Mi sono spostato per lavoro, ho avuto questa nuova offerta di lavoro. Antonella Cremonesi. Ciao Fabrizio, volevo chiederti come sono le regole se ti ferma la polizia circa l'alcol. Fanno sempre il test o altro? E come sono le sanzioni? Prima di tutto la polizia per fermarti deve essere sicura che tu hai fatto un'infrazione. Una volta che ti ha fermato, se ritiene che tu sia brillo, quindi che abbia bevuto, può tranquillamente procedere a un alcol test. Le sanzioni quali sono? Galera. Una notte in galera, ritiro della patente, giorno dopo processo, devi andare dopo alle riunioni per gli alcolisti. È una trafila lunghissima, lunghissima. È veramente meglio non essere beccati, anzi è proprio meglio non bere quando si deve guidare perché qui te la fanno sudare poi la patente. Gianluca, casa Dio. Ciao Fabri, ma per immatricolare la Panda, la burocrazia e i costi come sono in America? Allora, sto scoprendo che le regole sono diverse da stato a stato. In Texas dovevo andare a fare l'ispezione dallo sceriffo per il numero di telaio, qui in Wisconsin sembra che devo mandare tutto via posta. Sto ancora cercando informazioni perché non mi fido a spedire il libretto della macchina originale perché se me lo perdono il libretto italiano è un disastro. Se fosse il libretto o il title americano non è un problema perché con 10 dollari online richiedi il duplicato. Sapete com'è la burocrazia in Italia? Se dovessi perdere il libretto di proprietà della Panda sarebbe un disastro. Sto ancora cercando le informazioni, sembrerebbe che qui in Wisconsin, essendo la mia macchina di proprietà da più di 90 giorni che non l'ho comprata recentemente, il costo si aggira intorno ai 250 dollari. Ovviamente appena riuscirò a immatricolarla e registrarla ve lo farò sapere. The Rocker! Già siete sbracciati qui sotto zero. Lui si riferisce ancora al video che ero in piscina con gli amici a Houston. Come vedi la temperatura è cambiata tantissimo, oggi nevica. Gisella, quanto tempo hai impiegato per parlare inglese bene come adesso? Un po' questa domanda si allaccia con una delle prime domande di oggi. Sto ancora imparando e migliorando ovviamente perché conoscono nuove parole tutti i giorni, nuove pronunce tutti i giorni. Ci ho messo più di un anno, un anno e mezzo. Fate conto che i sei mesi passati in Europa mi hanno fatto regredire un po'. Quando sono tornato a gennaio è stato un disastro. Riparlare tutti i giorni in inglese, anche se in Italia avevo delle chiamate quotidiane, avevo perso molto. Adesso sto recuperando e si è sempre in fase di miglioramento. Ovviamente i miglioramenti sono più leggeri, si vedono meno rispetto a prima, ma dopo sette anni ancora non ho finito di imparare. Renzo, ma non ti viene voglia di un pranzo decente e soprattutto un caffè che non sia sciacquapalle? Allora, Renzo, non bevo caffè normalmente, quindi il caffè lo allungo sempre con il latte e per questo che ogni caffè per me va bene allungato con il latte. Per quanto riguarda i pranzi decenti ci saranno tempi migliori. Nell'ultimo periodo ero un po' disorganizzato con la cucina, non avevo opportunità di cucinare e mi sono dovuto adeguare a quello che passava al convento. Juice, ma ti pagano per andare a prendere la spesa? Mi pagano per il mio tempo, quindi dalle 9 alle 5 io sono pagato e andare a fare la spesa a me piace per andare in giro per i negozi, per passare il tempo fuori dall'ufficio. Di conseguenza non mi pesa, sono pagato dalle 9 alle 5, 6 in quel frangente, in quel frame di tempo, perché no? Luigi, un po' come The Rocker, ma già ci sono le temperature per andare in piscina? In Texas sì, ma come avete visto in Wisconsin no, è ancora tempo per andare a sciare, probabilmente a patinare sul ghiaccio. Ultima domanda di oggi di Davide, ciao, ma la casetta l'affittano con gatto e galline comprese? Ti sei dimenticato anche del cane? Il cane però gira meno veramente, se hai ragione, intorno alla tiny house, però sì sono lì, all'interno della casa ho fatto vedere c'è il mangime sia per le galline sia per il gatto, quindi gli ospiti che vanno lì, che fanno 2-3 giorni, ovviamente bizchiano gli animali e tu hai sempre intorno questi animali. L'effetto delle galline è che fanno la cacca sulle scale d'entrata. Per questo giro di domande è tutto, anche lunedì prossimo non risponderò alle domande perché sarà il mio primo giorno di lavoro, quindi dovrò documentare il mio primo giorno di lavoro, non mi potrò fare probabilmente vedere l'ufficio, ma vi farò vedere la strada per andare a lavorare, vi dirò la prima impressione alla fine della giornata, vi spiegherò un po' i documenti che ho dovuto fare per l'assunzione, visto, ecco premetto, che inizierò a viaggiare e magari qualche lunedì sarò in qualche posto interessante, non sarà più il lunedì delle risposte, ma sarà il giorno delle risposte che sarà casuale quando sarò a casa o in un posto noioso. Per questo video è tutto, da Monona, Wisconsin è tutto, passo e chiudo, ciao!